Abbiamo giocato bene, purtroppo eravamo in 6, abbiamo sofferto un po' la stranchezza, però alla fine abbiamo diventato bene. Siamo riusciti a fare 3 gol con Lollo che ha giocato benissimo e uno l'ho fatto io e è andata bene. Per la prossima spero che saremmo di più, tipo 7 o 8, perché se no così è proprio uno sforzo incredibile perché c'era sempre qualcuno che non rifiutava bene. Diciamo che come inizio non ci possiamo lamentare, certo è una squadra un po' inesperta dall'altra parte, però sono partite che ci servono per trovare un po' di amalgama all'interno della squadra. Quest'anno la vedo chiaramente come una vittoria, tra il decimo trofeo e la faccia di Gentile sono uscito ai quarti, quindi c'è un bel senso di vendetta che dovrò sicuramente soddisfare. La prima partita un po' affannati ci siamo trovati, diciamo la condizione è ancora nella nostra, ci sta Vincenzo Lamedica in grandissimo spolvero, diciamo ha trovato un ruolo nuovo suo, il pivò, dato la sua stanza a 130 kg farà buone cose. Sicuramente siamo tra le favorite, ci sta, anzi diciamo la favorita è la mia ex squadra, la Gentile. Soprattutto perché ci sta lui, ci sono rimasto molto legato, poi veniamo subito noi, la squadra, sicuramente la squadra meno favorita, che è impossibile che arriva a quarti, lo dico qua sul video, è la squadra di Nicola Cirillo, che non arriverà mai. Cioè, sono veramente squadre di scarsi, 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 è impossibile che arriva. Scusa, allora, prima partita bene, nuovi innesti ragazzi giovani che per la prima volta giocano noi quest'anno e vediamo, speriamo di divertirci e vediamo dove possiamo arrivare con questi nuovi ragazzi. Come la vedi quest'anno, un altro titolo? Magari, sarebbe una bella cosa, ci speriamo, stiamo lavorando per questo, l'importante è che ci diventiamo tutti. Ok, grazie. Beh, direi piuttosto bene, soprattutto perché l'altro anno contro questa squadra l'avevamo perso, quindi siamo riusciti a giocarla bene e niente, siamo contenti. Dobbiamo vedere come vanno le altre partite e spero che le altre squadre siano più scarse di noi. Come te la senti? Va bene, l'altro anno anche ce la sentiamo bene, però siamo usciti presto, quindi speriamo bene.